Cari amici, buongiorno. Faccio questo video in condizioni molto precarie, purtroppo. Fa freddo fuori e fa freddo anche dentro al mio animo, perché ho avuto modo di incontrare dopo un po' di tempo il famoso Omoigui Evans Osaon, l'ex dipendente di Renzi, uno degli ex dipendenti della famiglia Renzi, del padre Tiziano Renzi, reso famoso sia dalla sua partecipazione alle Iene del gennaio scorso e anche per motivi artistici, essendo lui l'autore di alcune canzoni importanti nel panorama della musica italiana, fra cui la celeberrima Io ballerò finché Renzi non mi pagherà i miei soldi, o Africa lontana, Africa vicina, che parla dello scandalo dei fondi Unicef e del cognato di Matteo Renzi, il famoso Andrea Conticini. E appunto, purtroppo, devo dire che le condizioni di salute di Evans sono davvero assai precarie, le condizioni di salute e le condizioni di vita. Purtroppo paga pesantemente in termini di salute anche ciò che avvenne durante il periodo in cui lavorò per i Renzi. ha spessissimo dei dolori forti al tratto cervicale, alla colonna vertebrale, che gli rendono difficoltoso il camminare se non per brevi periodi e per brevi percorsi. Ricorre spessissimo e con frequenza, con troppa frequenza purtroppo, ha degli antidolorifici e questo mina ulteriormente la sua salute e quindi purtroppo questa persona ha veramente una condizione di salute precaria, decisamente precaria. Anche la condizione economica purtroppo è davvero difficile in quanto Evans al momento non ha più un lavoro, non è in condizioni di poterne se ne cercare un altro e quindi si limita quando appunto le sue condizioni di salute glielo permettono a fare l'artista di strada e a suonare le sue belle canzoni ad esibirsi dal vivo per racimolare qualche euro o qualche decina di euro. Quindi è veramente una situazione difficile di cui volevo portare a conoscenza la pubblica opinione nel mio piccolo e proprio per questo motivo faccio questo video. Sempre a scopo informativo, a titolo informativo, vi raguaglio brevemente sullo stato dell'arte della vertenza che lo vede contrapposto ai genitori di Renzi. Come sapete Alessandro Maiorano ha conosciuto questa persona, si è messo a disposizione i suoi avvocati di Firenze che non cito per nome e cognome ma lo faremo presto, lo farò presto, i quali hanno preso in carico tutto, sono riusciti a bloccare la prescrizione perché si trattava di decreti ingiuntivi del 2009, del 2011, quindi dopo dieci anni rischiavano davvero di cadere in prescrizione, sarebbero presto caduti in prescrizione. Invece li hanno riattivati, hanno mandato la lettera di ingiunzione di pagamento ai Renzi, naturalmente sto parlando di Tiziano Renzi e di Laura Bovoli, i genitori, chiedendo appunto il risarcimento di oltre 240 mila Euro. La cifra è lievitata rispetto agli iniziali 90 o poco più che erano perché naturalmente ci sono dieci anni o quasi dieci anni di interessi semplici e composti e poi perché dovete sapere che Omoigui Evans Osaon non era il solo dipendente che veniva diciamo non retribuito o retribuito in maniera minima dai Renzi, ma anche la sua compagna di cui non rivelo il nome si è trovata nella sua stessa identica situazione, quindi ha maturato anche lei dei crediti, anzi dei crediti ancora maggiori rispetto a Evans, crediti che poi i Renzi non hanno mai saldato. Quindi ora i Renzi hanno ricevuto questa raccomandata poco tempo fa, avevano a disposizione un mese per rispondere o eventualmente saldare le loro pendenze, non lo hanno fatto, non hanno sganciato un Euro e di conseguenza la pratica va avanti e presto o in tempi contenuti il Tribunale dovrebbe fissare una data per l'udienza e c'è la speranza di riuscire veramente a far ottenere a questi due lavoratori estracomunitari ma lavoratori seri ed onesti ciò che spetta loro di diritto, quindi questo è lo stato dell'arte. Naturalmente questi soldi sarebbero davvero importanti per Evans, non solo per Evans anche per la sua compagna, ma sarebbero importanti per Evans a maggior ragione visto le sue condizioni di salute molto precarie. Quindi speriamo che i Renzi si mettano una mano sulla coscienza, hanno già tanti problemi, per loro 240 mila Euro sono una sciocchezza e quindi speriamo che si li tirino fuori nel più breve tempo possibile anche perché se fossero stati furbi non avrebbero portato le cose a questo punto e poi tutto gli si ritorce contro come un boomerang. Per il momento mi fermo qui, vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione.